Grazie a tutti Noi vogliamo creare occupazione, non vogliamo esuberi e non vogliamo gente per strada alla Caritas perché il piano di vita finisce nel 2025, fino al 2025 devono garantire che nessuno rimane per strada Siamo qua oggi in giornata di sciopera a manifestare il nostro dissenso nei confronti delle intenzioni del governo perché non sta convocando se non in maniera simillina le parti sociali per definire quali sono le sue reali intenzioni sul mercato del trasporto aereo Ad oggi la sensazione che abbiamo è che voglia solamente passare il costo dalla mano d'opera quindi dei nostri stipendi e di tutti i lavoratori di Alitalia e di conseguenza anche delle altre compagnie perché a lottazione anche gli altri subiranno prestazioni di questo tipo qui per poi vendere al miglior offerente il nostro mercato di trasporto aereo questa è forse una sensazione o forse una realtà Draghi ci deve dare delle risposte in me Siamo pagati 4 euro l'ora Quindi è come dire ad un medico che dopo 20 anni esercita la professione andare a dire che tu domani sei di nuovo tirocinante Non è così, noi non ci fermeremo, andremo comunque avanti perché chiediamo un contratto unico, nazionale, di categoria per tutti i naviganti Handling, maintenance e manutenzione e aviation Quindi tutti e tre i rami devono essere uniti